Un tamponamento che coinvolge tre vetture. Un ragazzo scende dall'auto, porta soccorso agli amici, ma un'altra automobile lo coglie in pieno sbalzandolo dal ponte con un volo di 20 metri. Così è stata spezzata la giovane vita di Edoardo D'Alessandro, 20 anni, rimasto vittima del sinistro domenica mattina intorno alle 5 sulla statale Settequater, facente parte della Domiziana. L'incidente tra gli svincoli di Villa Literno e Castelvolturno in direzione Mondragone. Non è bastato il pronto intervento dei vigili del fuoco che lo hanno trovato privo di vita circa un'ora dopo l'evento. A coordinare le indagini i carabinieri di Casal di Principe, una strada pericolosa la Domiziana, non tanto per il manto e la struttura a due corsie, ma per l'elevata velocità che spesso chi la percorre raggiunge. A farne le spese questa volta un giovane di Mondragone, per lo più nell'atto di aiutare altri automobilisti, amici. La magistratura inquirente ha intanto ordinato l'autopsia sulla Salma di Edoardo, trasferita dopo i primi rilievi nell'ospedale di Caserta.